Sarà Simone Missiroli la guida per tutto il Cesena in questa stagione. Il veterano centrocampista, che vanta la bellezza di quasi 500 presenze tra i professionisti, ha sposato il bianconero dopo la chiusura del calcio mercato. I primi minuti giocati con la nuova maglia sono stati nel derby con il Modena, perso martedì sera per 1-2. L'ho esordito in uno stadio che non è da C, in una partita che sicuramente, visto le due squadre, non era C, quindi come primo impatto è stato positivo, perché comunque abbiamo affrontato una squadra forte, noi siamo una squadra competitiva, abbiamo dimostrato di porterci a giocare. E' una nuova esperienza, sicuramente una nuova esperienza, che non si smette mai di migliorare, di crescere, e quindi anche questo mi servirà. Prima di poter divenire il farmazzo al campo, occorrerà trovare la giusta forma atletica. Mi metto a disposizione del mister, sono diventato il più vecchio della squadra, per la prima volta sono il più vecchio della squadra, quindi mi metto a disposizione anche dei più giovani, spero di essere un esempio positivo per loro, per farli crescere, visto che ce ne abbiamo così tanti e dagli allenamenti che ho visto sono forti.